Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube Altro giro, altra corsa Venerdì significa nuovi Tots Ci avviciniamo alle battute conclusive di questo evento Siamo in presenza stavolta dei Tots della Serie A Finalmente sono usciti, finalmente ci troviamo davanti, tante belle carte interessanti, anche se già so che magari qualcuno si aspettava altri giocatori piuttosto che altri, andiamo a vedere tutti quelli che sono usciti appunto, mettetevi comodi, in attesa poi di quelle che sono le gameplay review dei prossimi giorni, quindi non perderei altro tempo andiamo subito sulla schermata di Footbeam dove siamo in presenza del primo campioncino ovvero Frank e C 3 di skill e 4 di piede debole il 3 di skill che mi lascia un pelino un pelino con la Mario in bocca se avesse avuto 4 sarebbe stato veramente totale abbiamo poi 1,83m con un work rate di alto alto, che si rispetto alla sua versione 86 riceve un più 6 in velocità, un più 4 in tiro un più 5 in passaggio più 6 in dribbling, più 5 in difesa e più 4 in fisico, per un giocatore che diventa praticamente totale a livello statistico di fatti 82 di accelerazione, 89 di velocità scatto 99 di corto e 99 di passaggio lungo abbiamo poi salto 92 stamina 99, forza 99 aggressività 99, vuol dire che il giocatore si francobolla all'avversario per togliergli il pallone dai piedi 95 di intercettazione 92 di mentalità difensiva che quindi significa che il giocatore fa anche ottimi interventi automatici piazzandosi bene su quelle che sono le linee di passaggio abbiamo poi 82 di agilità che significa appunto il giocatore reagisce bene a quelli che sono i movimenti avversari quindi veramente una bella carta che si il prezzo al momento è altino credo che insomma si andrà a sestare su abbastanza meno però parliamo di un giocatore di assoluto livello che sicuramente andrò a testare non ha bisogno ovviamente di presentazioni Cristiano Ronaldo si era tanto parlato c'erano rumors sempre più insistenti su quelle che potevano essere 5 skill e 5 di piede debole per la prima volta con un Ronaldo che sarebbe stato eclatante cosa che purtroppo non è accaduta quindi in realtà rispetto alla sua carta Toti abbiamo un downgrade di un punto in velocità abbiamo invece un upgrade in tiro passaggio e poi in fisico mentre perdiamo qualcosina in dribbling e in difesa onestamente qui il gioco è semplicemente andare a scegliere qual è la versione che insomma si preferisce tra le due però onestamente io andrei più che altro sulla versione Toti perché insomma questa perdita di dribbling nonché di velocità non rischia altro che magari rendere questo Cristiano Ronaldo lievemente vi dico lievemente un po' più pesantino e quindi risentirne all'interno dell'area di rigore un altro giocatore pazzesco almeno statisticamente sembra questo Rodrigo De Paul Rodrigo De Paul che ha 4 di skill e dire di piede debole quindi già molto meglio sotto questo profilo 1,78m con un grosso problema però nel workrate perché ha alto in attacco e basso in difesa quindi unito al fatto che non ha queste grandissime statistiche difensive in particolare mi preoccupa il 64 di mentalità difensiva diciamo che giocato in mezzo al campo potrebbe avere una serie di problemi soprattutto come cc in un 4-4-2 o cdc mentre per quanto riguarda magari il cc da mezzala all'interno di un rombo può tranquillamente dire la sua abbiamo di fatti rispetto alla versione 86 dei boost eccezionali un più 5 in velocità se in tiro 5 in passaggio 4 dribbling 9 difese 8 fisico per una carta che insomma bisogna andare a testare non so bene onestamente se ce la vedo sull'esterno credo che il suo ruolo sia proprio quello di mezzala all'interno di un rombo e probabilmente poco altro ma su questo De Paul ci aggiorneremo nei prossimi giorni arriviamo a un altro giocatore clamoroso Luis Muriel Donasimiento no non è vero però fa sempre figo dire Donasimiento con questi giocatori esotici 4-4 per lui anche per Muriel si era parlato di un ipotetico 5 skill che l'avrebbe reso disumano e devastante invece non è così comunque parliamo di un giocatore di 1,79m con un body type average cosa che l'ha reso negli anni sempre un po' penalizzato a causa di questo work rate di questo body type e rispetto alla sua versione 86 prende un più un 3 in velocità un più un 6 in tiro un più un 7 in passaggio 5 in dribbling 6 in difesa che non ci importa e 8 in fisico per cui statistiche di velocità che non ve le sto neanche dire abbiamo 95 di potenza tiro e 96 di finalizzazione abbiamo un ottimo passaggio corto meno e lungo agilità 97 appesantito però dal body type e dal 92 di forza quindi sarebbe da valutare palla al piede in realtà questo Muriel come se la cava però statisticamente questo è uno dei giocatori più interessanti sicuramente sfruttabile sia da punta prima che seconda ma anche da esterno è uno di quelli che andrò a testare Luis Muriel Romelone Lukaku 4-4 per lui un altro giocatore molto 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 interessante rispetto alla sua carta 88 prende un più 10 in velocità 9 in tiro 8 passaggio 15 in dribbling 9 di difesa e 8 in fisico Lukaku storicamente è sempre stato un tronco però questo boost pazzesco che ha ricevuto sia in termini di agilità nonostante sia comunque un Cristo di 1,91 per 94 kg e abbia 99 di forza con un body type unico io una mezza chance al Romelone Lukaku gliela darei perché comunque davanti alla porta ha 99 di finalizzazione e 99 di potenza tiro quindi se ti rasegna praticamente ha un ottimo anche un ottimo pattern sia dei passaggi corti che lunghi ripeto ha anche un ottimo controllo palla ha un 99 di freddezza 91 stamina quindi questo qua è sicuramente un ottimo 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 giocatore statisticamente bisogna un attimino capire se e come utilizzarlo perché bisogna vedere se vale la pena utilizzarlo da prima o seconda punta o magari dirottarlo sull'esterno però non è proprio il massimo sull'esterno considerando che è un giocatore di un metro e 91 almeno sulla carta lo proveremo e vediamo che cosa ti dice anche Romelone Lukaku Lorenzo Lollo insigne questo per i meme per spammatire a giro già lo vedo in weekend league 4-4 un metro e 63 body type unico anche per lui rispetto alla versione 89 vende più 4 in velocità 6 in tiro 4 in passaggio 3 di dibling addirittura 25 di fisico e 5 di difesa 25 di fisico che in realtà come vedete va a boostare la stamina che passa da 80 a 95 già prima era molto rapido abbiamo 88 di finalizzazione con 93 di potenza tiro ottimi passaggi ottima l'agilità questa è una trottola questo qui per me è valido sia per quanto riguarda il ruolo di esterno destro perché così sfruttate il fatto dei suoi tiri a incrociare lo speed boost e in più è valido anche secondo me da seconda punta visto che comunque è un 4-4 se giocate un po' old style alla FIFA 20 secondo me questo qua vi toglie qualche soddisfazione Stefan De Vrij 2-4 per lui 1,89 una carta che mi sento di definire un po' alla Ruben Dias abbiamo un più 15 in velocità un più 18 in passaggio 12 in dribbling 15 in fisico 8 in difesa e 9 in tiro passa addirittura 84 di accelerazione 83 di velocità scatto ottimi passaggi le statistiche difensive tutte quante over the top e a 95 di aggressività e 93 di forza quindi veramente una bella 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 carta questo De Vrij almeno appunto così a parametro statistico ha un body type unico ripeto secondo me una sorta di Ruben Dias è da testare bisogna vedere se regge il confronto contro tutti questi super player lanciati in contropiede però potrebbe tranquillamente tranquillamente trovare spazio all'interno delle nostre squadre così come all'interno delle nostre squadre spazio lo può trovare sicuramente lo troverà questo Teo Hernandez che nonostante sia un 3-3 parliamo di un giocatore di un metro e 84 che ha una carta pazzesca era difficile boostargli la velocità passa da 98 a 99 ha più 5 in tiro più 7 in passaggio più 7 di dribbling più 5 di difesa e più 6 di fisico per quello appunto che è un giocatore molto molto veloce con delle stats difensive da paura 91 di forza 89 di aggressività 91 di agilità quindi veramente spettacolare peccato il passaggio lungo che è un pochino rivedibile mentre il corto 97 anche questo è molto on point io continuo a preferirlo a causa del suo body type un po' cinghialesco da difensore centrale piuttosto che da terzino e che difensore centrale questo Teo Hernandez con queste statistiche messe lì al loro posto quindi non so quanto potrà costare credo che si avvicinerà al cup in queste prime ore tocca un attimo capire come e quando prenderlo però è molto 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 interessante è sicuramente uno di quelli che andremo a testare Juan Quadrado altro giocatore sensazionale body type lean per lui 5 di skill e 3 di piede debole 1,79 rispetto alla carta 86 prende più 3 in velocità più 3 in tiro più 6 in passaggio 4 in dribbling 11 in fisico e 6 in difesa arriviamo ad avere un ottimo 84 di mentalità difensiva ottimi contrasti 96 di aggressività che sale 99 di agilità questo da terzino e da paura perché abbiniamo il fatto che ha le 5 skill abbiniamo il fatto che porta molto bene il pallone che è agile che dovrebbe chiudere anche meglio in fase difensiva quindi Juan Quadrado sicuramente è molto 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 valido anche perché rinca bene Cristiano Ronaldo ha tutta una serie di fattori positivi questo vi dico potrebbe essere anche provato in maniera goliardica da esterno e paradossalmente anche forse da cc vedremo 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 perché può fare quasi tutti i ruoli praticamente lì tra difesa e esterno Dries Mertens giocatore molto chiacchierato sin da quando l'hanno liccato perché insomma si parlava di Mertens che esce che non esce perché perché così è uscito Mertens effettivamente non si sa perché 4-4 per lui 1,69m di giocatore dal body type unico rispetto alla versione what if prende un più 4 di velocità un più 2 di tiro un più 4 di passaggio più 2 di ribling addirittura più 19 di fisico e più 4 in difesa 99 di accelerazione e 93 di velocità scatto ottima potenza tiro e finalizzazione ottimi passaggi 99 di agilità questo è un furetto palla al piede e abbiamo anche un ottimo 94 di stamina io personalmente questo lo preferisco all'interno di un 4-4-2 magari da seconda punta da esterno rischia di non andare via in velocità vista l'altezza si potrebbe provare anche 10-C visto gli ottimi passaggi e l'ottimo tiro Mertens anche in ottica futura visto che si parla di una possibile SBC di Nainggolan potrebbe essere interessante nell'andare a dare dei link tornando invece al reparto difensivo abbiamo Cristian Romero un altro giocatore veramente molto 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 interessante di fatti abbiamo un giocatore di 1,85 con 84 di accelerazione e 86 di velocità abbiamo poi ottimi passaggi 85 di agilità che è tanta roba statistiche difensive al top con 91 di forza e 91 di aggressività me lo sento di paragonare così su due piedi un po' al quondè della serie A mi sembra sicuramente valido come giocatore anche lui però deve essere testato bisogna vedere sul campo effettivamente la sua robustezza però visto così Romero visto anche il costo sembra veramente un ottimo player ritornando invece in squadra nera azzurra però di sponda milanese abbiamo Skriniar Skriniar purtroppo mi sembra un giocatore alquanto inutilizzabile visto che ha ricevuto un boost di velocità veramente veramente poco cospicuo cosa che lo rende fuori meta e totalmente esposto alla velocità dei giocatori avversari quindi Skriniar io lo bypasserei così come ogni anno fanno uscire questo Mimmo Berardi con 4 skill e 3 di piede debole che statisticamente paradossalmente ci può mezzostare da esterno però insomma ci sono tante carte che secondo me sono superiori vedasi Kuluseski o vedasi banalmente salutato Donnarumma che come al solito anche qua chiacchierato perché in tanti si aspettavano Andanovic salutato Donnarumma perché come al solito con i quartieri vi dico che è molto molto soggettiva la cosa già un Lozzano che riceve finalmente un boost nel piede debole che passa a 4 questo rischia di essere un diavoletto non potevano boostargli la velocità ma gli danno più 6 di tiro più 5 di passaggio 5 di dribbling 4 di difese 8 di fisico per arrivare a 99 di agilità 99 di velocità 99 di accelerazione un ottimo tiro ottimi passaggi buona anche l'aggressività qualora lo si voglia lo si voglia mettere in maniera goliardica anche da da mezzala 94 di ball control 86 di freddezza questo bisogna capire un attimino il prezzo però è un giocatore veramente veramente con i controfiocchi 450k costa praticamente il doppio di berardi da abbassare con magari i pick che abbiamo all'interno del club questo è promossissimo a mio modesto modo di vedere barelliere questo qua è obiettivo quindi come al solito carte obiettivo che per me vanno sempre sbloccate perché tanto male voi le buttate dentro a nsbc visto che questo è toz e vi vale pure da toz nei garantiti prende più 10 in velocità 13 in tiro 10 di difesa e 15 di fisico per arrivare ad avere 93 di accelerazione 89 di velocità scatto ottima agilità tanta roba alle statistiche difensive addirittura 90 di aggressività per un giocatore che ha alto normale di work rate peccato anche per lui il 3 di skill se fosse stato 4-4 sarebbe stato veramente un giocatore pazzesco 1,75 diciamo una sorta di non so vi dico dugundo che me la butto lì della serie A sembra veramente anche lui un giocatore interessante il mio consiglio è di sbloccarlo per vedere se effettivamente vale la pena o meno lo riciclate all'interno di una sbc quindi ragazzoni per quanto riguarda la preview di questi toz è tutto fatemi sapere nei commenti se vi aspettavate qualche altro giocatore o se questi qua vanno convinto vi ricordo che nei prossimi giorni usciranno le review con gameplay in descrizioni trovate la piattaforma Viola dove sono in live tutti i giorni per testare questi giocatori già a partirei da domani un saluto e un abbraccio al vostro Liberoschi ragazzi ciao ciao